La seconda giornata del Festival Internazionale di Musica da Camera, tra luce e sogno, che si sta tenendo al castello di Postignano in Valnerina, sarà ricordata come indimenticabile. A sorpresa, solo per poche ore perché impegnato a Salisburgo, ha voluto partecipare il maestro Kent Nagano, presidente onorario di tra luce e sogno. Sede dei due concerti in cartellone è stata la Chiesa Santissima annunziata del Borgo Umbro restaurato. Il programma di sala ha previsto musiche di Mendelssohn, Benjamin, Ravel e Debussy. Ultima data del Festival tra luce e sogno sarà quella di domani, 29 luglio 2018. Morena Zingales, Umbria Journal TV, Postignano, Valnerina. Grazie a tutti.